salve sono para macaruna e questo è il canale youtube del centro di ricerche vediche jagan tavallaba in questo video continuiamo a parlare del contenuto del mio libro divinità o alieni in particolare faremo riferimento alla tecnologia nell'india vedica buona visione la tecnologia nell'india vedica molte descrizioni considerate semplicemente mitologiche fino a qualche decennio fa sono diventate improvvisamente realistiche con gli esperimenti nucleari di fusione fissione la fisica subotomica e quantistica la teoria del campo unificato la teoria degli universi paralleli le nanotecnologie computer nell'intelligenza artificiale via dicendo i ricercatori scientifici del campo fisico matematico veramente aggiornati vivono in un mondo che la massa della gente potrebbe considerare irrealisticamente fantascientifico e difficilmente sono ormai capaci di comunicare efficacemente con il pubblico o con ricercatori nel campo delle scienze sociali come l'antropologia l'archeologia e la storia figuriamoci poi per quanto riguarda la religione purtroppo scienziati divulgatori sono handicapati dalla frammentazione eccessiva delle specializzazioni alla mancanza di una fondamentale scienza della consapevolezza non parliamo qui di semplice epistemologia c'è la discussione sulla validità delle opinioni o di psicologia c'è lo studio dei meccanismi mentali ma di qualcosa di molto più profondo che non è stato ancora definito esplorato dall'accademia convenzionale occidentale il divario può essere colmato studiando la conoscenza vedica originaria come è stato dimostrato da moltissimi scienziati tra cui pionieri come Julius Robert Oppenheimer Niels Bohr John Archibald Wheeler David Bohm Carl Sagan Werner Heisenberg Andrew Thomas e Fridjof Capra a proposito del livello di conoscenza scientifica dell'antica India vengono spesso citate le tavole di Varahmihira un manoscritto esistente datato 500 d.C. che contengono dati matematici sulla struttura atomica e il Brihatsataka che parla della misurazione del tempo del casta che è un blablabla di secondo non so non so neanche come come tre sei otto sei un centesimo del miliardo di secondo ecco una roba così cioè vado alla serie ma fammi pensare ok al kalpa che è un giorno di Brahma che sono 4 miliardi e 32 di anni o il kalpa è un giorno di Brahma quindi Brahma vive cento anni e un respiro di Mahavishnu corrisponde a cento anni di Brahma quindi facciamo i conti e aggiungiamo degli altri zeri ma Brahma quanti anni ha è nella crisi della mezza età una cinquantinata una cinquantinata va beh ma ha portato commisurato al tempo terrestre un giorno un giorno di Brahma no dico 4 e rotti miliardi di anni per esempio se andassimo su un altro pianeta di un'altra galassia potrebbe essere praticamente 2,3 miliardi infatti infatti i pianeti superiori non vengono distrutti alla fine di un giorno di Brahma brava quando va a dormire c'è al giorno e la notte ok un giorno di Brahma equivale a mille cicli di 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 yoga sulla terra ora un ciclo di yoga facciamo le divisioni cioè sempre sempre li siamo alla fine della giornata brava diciamo andiamo a dormire come dicono gli inglesi let's call it a day la giornata la giornata è finita chiudo bottega metto via tutti gli strumenti gli attrezzi eccetera e bene vado a casa a dormire e questo significa che Brahma chiude i pianeti mediani e inferiori cioè i pianeti terrestri vengono distrutti all'inizio al mattino Brahma si sveglia dopo altri 4 milioni erotti di anni dice va bene ricominciamo a lavorare dice ok allora facciamo la terra facciamo il big bang facciamo questo c'è quell'altro e fa il sistema solare ma il big bang è ogni giorno di Brahma gli universi in generale gli universi paralleli gli altri universi eccetera hanno una durata molto certo il ciclo degli universi hanno adorato molto più quindi andiamo avanti il sistema allora ecco dice qua i commentatori moderni hanno notato che il cast ha una durata simile a quella dell'esistenza di alcuni mesoni e peroni particele subotomiche mentre il calpa è simile a quella della disintegrazione di radio isotopi come quelle dell'uranio 238 che è 4 e mezzo miliardi di anni il sistema decimale e il concetto di zero infinito erano già presenti nei testi vedici come anche la geometria l'algebra l'equazione di secondo grado le radici quadrate cubiche la trigonometria gli algoritmi la sequenza cosiddetta di fibonacci la numerazione binaria tutti riportati in manoscritti che risalgono almeno ai primi secoli di quest'era il sistema decimale appare già nei set di misurazione trovati a mohenjadar rapa l'origine indiana del sistema decimale della compressione dello zero infinito è stata riconosciuta da molti matematici a cominciare da pierre simon laplace 1749 fino a praticamente a cavallo tra settecento e quindi poi andiamo avanti barati krishnatirta scritto un trattato intitolato la matematica vedica pubblicata nel 65 eccetera poi abbiamo altre informazioni sul quello che hanno scritto in occidente vari personaggi eccetera eccetera josephson thomas compagnia con le varie citazioni ecco è molto distorta invece la leggenda dei nuovi illuminati che questo l'ho sentita i vari in altri video realizzati da amici bravi persone che però sono mal informati la società segreta dei nove nuovi uomini ignoti che sarebbe stata creata dall'imperatore a sciocca lo scopo di catalogare e preservare tutte le scienze antiche menzionate come fisiologia microbiologia cosmologia gravità luce alchimia sociologia comunicazione propaganda la storia è tratta da un romanzo del 1923 scritto da talbot mundi pubblicato a puntate sull'adventure magazine quindi è semplicemente fantascienza non è reale non esistono questa storia la storia dei nuovi illuminati di asciocca è nata nel 1923 dalla fantasia di uno scrittore di fantascienza la qualità dell'opera più o meno sul livello famoso romanzo la profezia di celestino specialmente considerato il personaggio nel libro di talbot mundi di padre cipriano che trova i libri segreti ma vuole distruggerli perché è contrario alla dottrina cristiana quindi praticamente la profezia di celestino è uguale dal punto di vista di credibilità storica nella storia non manca una buona dose di catastrofismo disprezzo per natura umana bla 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 è vero nel corso della storia molte conoscenze sono andate perdute ma non perché i libri sono diventati segreti piuttosto perché nelle invasioni sono stati istrutti i libri normalmente conosciuti e massacrati gli esperti insegnanti che li tramandavano come del resto accadde in modo ancora più radicale nella regione mediterranea eccetera eccetera qui parliamo delle università antiche quindi abbiamo la distruzione di dina landa specialmente i libri dico ecco qui ci sono altre elaborazioni che ho offerto perché questa leggenda dei nuovi dai nove uomini gnocchi è particolarmente stupida il problema del che ti usa la conoscenza non è dovuto la conoscenza stessa che può altrettanto facilmente essere utilizzata per scopi benefici se i libri di scienza nascosti da socca fossero stati davvero così preziosi avrebbero dovuto invece essere preservati apertamente magari in qualche tempio ben difeso usati per proteggere il popolo della guerra e nascondi la conoscenza riguardo all'identificazione specifica delle scienze offerte a talbot mondi si tratta certamente una speculazione infondata la più assurda nella lista è certamente la propaganda in quanto il sistema vedico ricostruito su principi totalmente opposti a tale concetto idem per la scienza delle comunicazioni che non aveva ragione di esistere propaganda e comunicazione diventano scienze quando necessario convincere il popolo ad appoggiare un governo che non merita di essere appoggiato guadagnando voti per la farsa delle elezioni a suffragio universale e controllando il mass media per condizionare l'opinione pubblica ma nel sistema vedico non esistevano né mass media né elezioni politiche quindi diamo avanti in ordine di improbabilità segre segue la microbiologia in quanto la medicina vedica non considerava i microbi come la principale minaccia per la salute eppure insistendo molto sull'igiene specialmente contatti interpersonali dell'articolo quotidiana sulla pulizia e freschezza degli alimenti dell'acqua degli ambienti sulla disinfezione strumenti specialmente in chirurgia e persino utilizzando il concetto di vaccinazione la priorità veniva data alla creazione di un ambiente favorevole cioè non inquinato al controllo dell'alimentazione specificamente vegetariano e al rafforzamento del sistema psicofisico con la meditazione l'esercizio gli yoga eccetera in modo da mantenere il sistema immunitario in buone condizioni questo è la yurveda altri due rami improbabili della conoscenza dei famosi nove uomini ignoti sono la gravità la luce in quale in quanto tali campi non esistevano separatamente ma erano parte integrante in un studio più ampio della fisica della cosmologia cioè delle leggi naturali universo e questo tu sai che gravità e luce nel sistema del campo unificato non sono differenti la luce nella radiazione elettronica la gravità agisce sulla cioè sì ma tu sai che le particelle subatomiche ci sono diciamo così elaborano in modo molto più complesso su questi concetti quei fotoni gravitoni mesone gli accidenti ne parla molto corrado malanga bravo capito ma corrado malanga parla di queste cose e probabilmente siccome ha cominciato a parlare di queste cose un po più avanti nel tempo rispetto secondo me ha incorporato anche dei concetti diciamo così più più moderni più contemporanei più attuali ma la resi anche molto più semplicistici rispetto a quello che che espongono i classici classici fisici perché comunque lui non si fa problemi certo lui non non fa non fa esatto per lui è un chimico non è un fisico comunque fa anche fisica fa anche fisica va bene ma anche fisica comunque non è non è un grosso problema quindi infine considerando che nei tempi antichi specialmente in india si dava molto più importanza alla scienza del suono la sua assenza nella lista di talbot la rende ancora più sospetta come spesso accade alla fantasiosa speculazione di talbot prende questo è un punto molto interessante sulla sul suono infatti ci arriviamo come spesso accade alla fantasiosa speculazione di talbot prende l'ispirazione da un granale di verità specialmente da navaratna nove gioielli alla corte dell'antico ragianac di mitila nove grandi saggi che lo assistevano come consiglieri di esperti nella conoscenza medica che però non corrispondono ai dati offerti a talbot e seguaci questi saggi non erano affatto ignoti o segreti perché tutti li conoscevano benissimo bla 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 in seguito alla tradizione venne ripresa il famoso rabbi kamaditya i cui nove gioielli erano cali dasa il famoso poeta amara singh ad amantari gata capra xapan naka shanku varami mihira mihira vararucci e vetalabha in tempi ancora più recenti due sovranina di embengana nel 1100 e passa eccetera trovarono meno candidati e dovette raccontentarsi ciascuno di un gruppo di panciaratna cinque gioielli invece che nove eccetera la scienza della medicina possiamo citare il manoscritto della sushutta samhita in cui esiste attualmente uno datato 600 avanti cristo ma corre per i riferimenti ancora più antichi contiene i dettagli oltre 300 tipi di operazioni chirurgiche dal parto cesareo chirurgia estetica usando pelle dalle guance per ricostruire naso orecchie labbra e neurologica all'uso di sonde all'estrazione di fluidi all'impianto di membri artificiali all'asportazione di calcoli l'elenco degli strumenti comprende 125 varietà tra bisturi aghi cateteri e via di cegno ed erano esatte anche tecniche non invasive che utilizzavano raggi di luce e calore il gogia provanda deriva descrive un'operazione chirurgica eseguita nel 927 sul re brogio per asportare un tumore al cervello che ebbe pieno successo del paziente guarito cosa che non sono capace ancora di fare attualmente perché la maggior parte dei tumori al cervello nella sanità pubblica sicuramente ma sanità privata sanità privata sì però la maggior parte di mancela sono inoperabili si vabbè in america no non è mica così facile è sempre dedicato e sempre allora se no se hai la tecnologia perché la tecnologia lo puoi fare ma infatti stiamo parlando di tecnologie estremamente avanzate mentre invece se vai a vedere quello che dicono non è rimasto niente di tangibile di questa tecnologia è andato allora è andato molto è andato trasportato nel mediterraneo dai razziatori islamici infatti avicenna e averroè sono diventati praticamente autorità anche sulla medicina avicenna avicenna no io dico queste via in india è rimasto ben poco per due motivi uno perché la gente si è diciamo così lasciata andare per cui non sono più venuto cioè non si sono più formate persone ugualmente qualificate perché il diciamo che il concetto nel sistema nei sistemi antichi diciamo così di storiografia antica non parlava di un progresso lineare in salita tutte le culture antiche parlano di una decadenza dell'umanità ci troviamo in età di decadenza non in età di progresso e e poi ovviamente per il fatto che proprio dal punto di vista fisico se tu distruggi università distruggi le biblioteche ammazzi tutti i professori ammazzi tutti i chirurghi e toliporti come schiavi a sabarcanda allora voglio dire che cos'è che ti resta lì sul posto non molto se venisse fatta un'operazione del genere in italia dello stesso tipo di di magnitudine di magnitudo che è stata fatta sull'india nel periodo delle invasioni e dominazioni islamiche uno dice però il resto più niente ma è successo pure meno meno ti garantisco che bene ma io penso che noi avevamo in sardegna una società in sardegna nella magna grecia il nostro simpatico pitagora e la scuola salernitana sono sopravvissute abbastanza lungo però anche lì ovviamente più che gli islamici l'italia ha avuto i cristiani vabbè non chiamiamoli cristiani ma non erano cristiani e che dietro a queste operazioni tra piccolette sotto l'altro il luogo cristiano c'erano loro si chiamavano cristiani ok allora se uno mi dice buongiorno mi chiamo cristiano io dico quello lì si chiama cristiano ok che poi seguissero gli insegnamenti di gesù cristo oppure no la cosa per me dal punto di vista storico è irrilevante poi è un concetto diverso nel senso che la stessa cosa si può ovviamente applicare agli induisti non è che tutti quelli che si chiamano induisti stanno presentando in modo corretto gli insegnamenti originari induisti dell'induismo infatti lo chiamo indovedico la cultura indovedica la conoscenza indovedica non è che tutti quelli che si presentano come induisti per me sono il diciamo così autorità che presentano correttamente la tradizione indovedica assolutamente no sarà mutata nel tempo sì no non è che è mutata nel tempo è che ci sono gli imbecilli dappertutto purtroppo il vero cancro della società e l'ignoranza bravo e qui ci siamo e qui ci siamo siamo sulla stessa pagina per cui andando avanti 237 e pagina esatto 200 siamo sulla pagina 237 qui andiamo avanti i medici tradizionali esperti nella yurveda bla 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 la scienza agopuntura compressione trappiantata in cina con grande successo ha avuto origine in india dalla scienza allo yoga che dettaglia precisamente le 72 mila nadi sono 72 mila meridiani i meridiani che ti fanno vedere sul manichino cinese sono molto di meno ma io penso che ogni cellula meridiana ok andando avanti parlando di pena possiamo spendere qualche riga anche per ricordare nicola tesla che adottò questo termine è il termine a casa spazio per descrivere l'universo come un sistema cinetico pieno di energia alla quale si può accedere da qualsiasi località anche qui sulla questione di tesla fatto fuori esatto ma la jp morgan nel 1900 nel 1903 registrano i brevetti bla bla sui principi fondamentali dei sistemi logici e dei circuiti di computer cioè eccetera nel 31 a buffalo new york stato in new york tesla sperimenta con successo un sistema di alimentazione elettrica per un'automobile pierce harrow il motore di 80 cavalli e 1800 giri al minuto circa 100 centimetri per 76 centimetri era collegato a una misteriosa scatola di 60 per 30 per 15 con due barrette lunghe circa 8 centimetri che spuntavano all'esterno fabbricato da tesla stesso senza alcun carburante o fonte di alimentazione esterna l'auto raggiunse 144 chilometri orari e continua a correre per una settimana poi all'anno spenta vabbè ok abbiamo visto abbastanza nel 43 la corte suprema legge usa caso bla bla della bla riconobbe a tesla pieni diritti di proprietà per dimensione della radio respingendo l'istanza e guglielmo marconi eccetera e qua parliamo ancora del tesla eccetera eccetera la casa citazioni la discussione sulla natura intima della materia a livello sottile della fisica nucleare non è però la portata alle masse perciò i due argomenti più interessanti per il pubblico a proposito della tecnologia dell'india antica sono generalmente le armi e l'astronavi astra e vimana anche in questi campi di studio risultano difficili da analizzare per gli occidentali che sono ancora fermamente radicati nella scienza meccanicistica poiché la tecnologia vedica si basa su una prospettiva completamente diversa sulle leggi della natura per questo modo molto di libera scambio esatto per questo motivo molti alienisti cadono al classico techno babbo cercando di spiegare le leggende secondo una terminologia che loro abbastanza familiare per esempio parlando di radar telecamere laser plasma bombe atomiche radiazioni apparecchi antigravità il fame di tazione è una meditazione con la meditazione con concetto chiamiamola la medita nella cartella meditazione possiamo ammettere di tutto dal rilassamento con la candela e la musichetta nincenzino fino alla raggiungimento dei dei poteri dello yoga silvi dei poteri delle perfezioni della yoga per cui tu manipoli la materia con la mente e vediamo che il paranormale è stato provato abbastanza insomma cioè che non sia stato spiegato dalla scienza ufficiale vabbè il problema che la scienza ufficiale quello che non è capace di spiegarlo lo spazza sotto il tappeto e non lo riconosce però le dimostrazioni ci sono quindi diamo avanti quindi la tecnologia descritta dai testi medici si basa infatti sullo sviluppo scientifico delle potenzialità umane e comporta il controllo consapevole di frequenze vibrazionali chiamate rispettivamente vaicari ma diama passianti e para cioè sonore grossolane sonore sottili o eteriche sub sonore e super sonore come dicono gli inglesi chew on that massica talunati ma che vediamo un po se si riesce a assimilare e campi elettromagnetici quelli che tesla chiamava prana che potremmo superficiemente chiamare biologici ma che non dipendono dalle funzioni del corpo materiale grossolano capaci di alterare lo stato la materia a livello atomico e sub atomico la casa di tesla la casa è livello sub atomico ok mentre la scienza meccanicistica di tipo occidentale procede nella direzione diametralmente opposta cercando di migliorare tra virgolette l'essere umano con apporti artificiali meccanici cibernetici genetici e via dicendo questo spinge la ricerca e la sperimentazione empirica verso una sempre maggiore dipendenza dell'essere umano della macchina mentre il sistema vedico considera le macchine iantra come semplici veicoli e strumenti senza comprendere questo punto fondamentale è impossibile comprendere la tecnologia delle linee antiche anche quando si cerca di farlo tirando in ballo i misteriosi e molto elusivi alieni o arrovellandosi sulle possibili modalità di reverse engineering a partire da concetti e definizioni descritte descrizioni di offerte dei testi sasca quindi andiamo avanti parlando del di manica c'è astra si arriva devo essere la fine del libro potere superiore andiamo avanti per cui c'è della serie andiamo avanti andiamo avanti i trattati vedici ok per esempio trattati vedici sull'argomento dell'aeronavi non contengono specificamente diagrammi descrizione tecnica di procedure di costruzione di volo come alcuni affermano questi le descrizioni le procedure di volo e di costruzione di volo venivano piuttosto dimostrati in laboratori durante il periodo di apprendi stato pratico alcuni alienisti affermano il contrario ma le loro teorie sono infondate basate su semplici speculazioni e fantasie nei test autentici si trova invece la trattazione della teoria che ne spiega i principi di funzionamento come potremmo trovare in test universitari di fisica nucleare e la particolarità aggiuntiva che vi rende difficile a comprendere per gli alienisti ufologi moderni è il fatto che la scienza vedica non fa distinzioni tra fisica e metafisica l'idea che solo oggi sta cominciando ad essere considerata valida in certi ambienti questo è un concetto così fondamentale che ti ribalta completamente tutte le diciamo le elaborazioni degli alienisti contemporanei per esempio avirabahu luogotenente di kartikeya è attribuito un trattato sulla mahendra jala che qualcuno ha chiamato la scienza della magia che spiega come camminare sull'acqua volare in aria senza veicoli e così via questa conoscenza che potremmo definire parapsicologica poteva essere applicata alla levitazione non solo del proprio corpo ma anche quella di oggetti la cosiddetta telecinesi come troviamo accennato anche nei testi sui bimani ma esistono dei manuali su questi testi si il mahendra jala mahendra jala che però in inglese non esiste e dubito che sia sopravvissuto anche in in saschia quindi non c'è più non sappiamo che ci sia la notazione conoscenza della sua esistenza attualmente io ho scavato e non si trova e qui ci colleghiamo al famoso di manika shastra di cui tutti parlano e che sarebbe il testo dall'antico mi fa ridere perché pronunciare il nome di varadvaja non dovrebbe essere così difficile però capisco che se uno non è non è del del mestiere di comincia diventare difficile e andiamo avanti per vedere manika shastra c'è tutto un capitolo dedicato a questa vicenda che è una canalizzazione nel secolo scorso del mille di primi del novecento adesso non mi ricordo più esattamente comunque nel libro ce l'ho riportato tutte le date tutto preciso questo simpatico signore si è messo lì a meditare e ha canalizzato il bimani kashastra di varadvaja che non esisteva più come test allora la tradizione in indovedica riconosce la possibilità autentica di recuperare testi antichi attraverso la canalizzazione dice sì è possibile però non dice che sono automaticamente validi qualsiasi cosa contengano e chiunque l'abbia canalizzata in qualsiasi modo e qualsiasi siano le interpretazioni successive che ne vengono date o me c'è fa attingere dalla memoria bravo bravo dalla memoria cosmica da una mente collettiva e dalla casa cioè chiamalo come ti pare è possibile possibilissimo quindi il problema non è smentire l'autenticità di questo vimani kashastra dice davano ma è stato solo una canalizzazione questa cosa si è inventato ma quelli che vedono gli arcangeli i pleiadiani eccetera eccetera ma può essere benissimo il problema è che se tu vuoi farlo funzionare un prototipo devi farlo funzionare non puoi fare un modellino di carta pesta e buttarlo nel tunnel del vento perché quel scusami ma non è un prototipo ora cercare di fare un reverse engineering di una di una come dire un apparecchio tecnologico senza comprendere senza cercare di comprendere i principi scientifici su quali questo si basava originariamente non è che sia un procedimento molto valido no non è che dici ah sì l'ho fatto l'ho fatta la pizza di frango una curiosità tra i reperti archeologici no che hanno diciamo saccheggiato è mai stata trovata una sfera di un metallo diverso di tre centimetri di via a così preciso non lo so non può darsi benissimo io so che esistono ore ore di video libri e libri su sui sui famosi manufatti auto place artifacts non sono storicamente riconosciuti dall'accademia ufficiale perché non è così non è possibile secondo le teorie ufficiali dominanti non dovrebbero esistere certo esistono un sacco di reperti questa quale questo in particolare che tu mi citi non 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 ciò presente tra le tesi po benissimo esistere il punto è che per esempio in india esistono cose molto interessanti come per esempio il famoso il famoso la famosa colonna di ashoca ma anche senza andare alla colonna di ashoca che ne parlano tutti anche nel nel tempio di corn arc dove io ho vissuto appunto conar che è a 15 km da puri 20 km pure ed è ed era uno dei più famosi templi al sole tempio di suria a conarck ed è stato distrutto prima dalle invasioni islamiche e poi è stato distrutto completamente dagli inglesi perché non perché erano contrari ai tempi in inglese tutto sommato non c'è divertitevi pure col vostro tempietto ma perché la calamita che c'era nel tempio nella stanza principale del tempio di conarck che teneva sospesa l'immagine la statua della divinità nel vuoto era così potente che gli incasinava le bussole delle navi che passavano nel golfo del bengala e quindi parla della magnetoterapia il tempio di suria a cola era la località una delle località più importanti forse la più importante dal punto di vista terapeutico per cui se uno si ammalava di qualsiasi cosa e parlava cioè una questo magnete dove sta non lo so è stato distrutto probabilmente no perché perché ogni magnete comunque mette una frequenza ben precisa bisogna analizzare quella frequenza perché particolare no non lo so ma nessuno lo sa di quelli che io ho consultato dei testi delle persone eccetera non lo so nessuno io so soltanto che nel 1800 e passa gli inglesi che volevano avere delle navi che andavano avanti indietro da calcutta all'inghilterra dovevano passare per il golfo del bengala e dicevano no cioè abbiamo capito che questa calamita ci ci disturba le bussole togliamo la probabilmente distruggiamola e così facendo praticamente tutta la sala del tempio è stata e collassata per cui hanno dovuto riempirla di mattoni ancora oggi tempio di conar la sala principale del tempo quello è rimasto in piedi è riempita di mattoni e hanno tirato fuori quando quando hanno tolto la calamita hanno tirato fuori una serie di trabi di ferro che sono ancora lì li hanno lasciate lì sono ancora nel parco del tempo di conar attualmente in cui oggi come oggi bisogna pagare per entrare io ho tutta una serie di fotografie che ho portato innumerevoli persone a visitare il posto e questo c'è questa fotografia appunto di queste travi di ferro che praticamente non sono ruggine non hanno ruggine è una lega diversa allora ferro non è una lega diversa e solo ferro e solo ferro e per dirti quanto è corrosivo il vento in quella zona quando sono mi sono trasferita in india nel 94 e mi ero portate i floppy disk del lavoro che avevo fatto in italia praticamente tutti i floppy ho dovuto buttarli via dopo un mese che era una ruggine di lavorazione del metallo che non è bravo e non è come non l'hanno funzionale no 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 l'hanno scoperta adesso un fisico israeliano ha costruito pure la nitride carbonia liquida non lo so io so soltanto che c'ho la foto di queste travi di ferro e che sono tagliate ci vedo la sezione e hanno una sezione cristallina non cristallina nel senso trasparente no hanno una forma cristallina della struttura hanno una forma cristallina la struttura e uno dice scusi non ho capito e questo se il nostro simpatico amico israeliano l'ha scoperto ultimamente 2000 anni fa lui ha scoperto ha pubblicato anche i suoi studi online in modo gratuito logicamente un reattore di plasma che praticamente genera energia infinita e tramite questo reattore tramite questa energia praticamente possibile anche cambiare lo stato della materia bravo ma non è che soltanto si può fare attraverso reattore al plasma si può fare semplicemente attraverso il kit psicofisico umano e per sapere queste cose per imparare queste cose bisogna avere dei cervelloni che te lo insegnava e mamma non ci sono più bravo ah ah esatto però non è che alla fine uno dice ah sì no allora lo facevano col plasma di quella maggior parte di questi che parlano degli alieni degli ufo delle tecnologie aliene eccetera non sanno neanche che cos'è il plasma pensano che sia una plastilina non so io che cosa c'è va beh andiamo avanti un altro testo mistico pratico compilato da gas e rishi è il shakti tantra costituito da otto capitoli in cui si illustrano le 64 shakti o yoghini degli elementi naturali aria fuoco sole luna eccetera e in che modo la loro conoscenza permette di modificare la struttura della materia no in quel senso pigna in carta e porta a caso ma tanga rishi è l'autore del trattato chiamato sudami nicala in cui si spiega il legame sottile tra il pensiero l'idee e il blueprint eterico della loro manifestazione tangibile che alcuni ufologi alienisti descrivono pedestramente come la scienza dell'elettronica non è esattamente la stessa cosa il testo include anche un elaborazione siccome è possibile utilizzare la percezione da livello sottile per vedere l'interno delle montagne o negli strati sotterranei ma possiamo dire subito che molto improbabile che si tratti di raggi x molti autori hanno riportato l'idea per cui i piloti dei vimana dovevano conoscere i segreti di mantri che tantrica ma più procedono a tentare il reverse ingegneri meccanico dei vimana senza avere la minima comprensione su questi argomenti che loro stessi hanno dichiarato fondamentali anche solo per l'utilizzo dei veicoli che dire per la loro costruzione riguardo alla prospettiva di corretto di lettura dei testi medici possiamo citare sadaputadas richard thompson che ha spiegato la tradizionale descrizione della cosmologia puranica come proiezioni stereografiche c'è una specie di mappa appiattita dalla regione della terra eccetera eccetera le armi nell'india vedica verso interessante dunque vediamo dove parla di davenport qualcuno che già le sa queste colpa le sa non perché se lei elaborate lui nella sua teoria perché lei imparate da verificate le sperimentate trovate che funziona sadu sono tutti gli altri ricercatori che seguono la stessa via tradizionale gli shastra sono le scritture ramatma è l'ispirazione interna la coscienza senso diciamo così autentico e ovviamente nel nostro caso i reperti storici che possono esistere possono resistere comunque da tutto il cuore da tutto ciò tutte queste cose noi possiamo arrivare a una ricostruzione più solida e reale possibile di quelle che sono le conoscenze quelle che erano le conoscenze che superficialmente ufficialmente sono andate per tutte sono scomparse e questo è ciò che io spiego nel libro per questo che pubblicato libro sia in italiano che in inglese chi lo legge tica nell'attuale deserto del tar ad ovest di jodpu che secondo gli alienisti avrebbe avuto mezzo milione di abitanti prima di essere distrutto da una guerra nucleare non ha lasciato assolutamente alcuna traccia nemmeno un ciottolo vetrificato e niente resti di alcuni edifici quella città non è mai esistita un altro caso spesso citato dagli alienisti è quello del cratere nei pressi di bombay o mumbai che però è stato datato geologicamente in modo abbastanza preciso a 50 mila anni fa e che ha tutte le caratteristiche di un cratere da meteorite e niente radiazioni ma torniamo alla famosa mohenjo d'arro e qui c'è tutta la storia perché gli alienisti da non mi ricordo se malanga faceva questa questa analisi secondo analisi le storie raccapriccianti sull'antica distruzione atomica che si riportano come narrate dagli abitanti di luogo recitano i signori del cielo hanno annientato alla città con una luce che brillava come mille soli e che mandava il rombo di diecimila tuoni da allora chi si arrisca ad avventurarsi nei luoghi distrutti viene aggredito da spiriti cattivi cioè le radiazioni spiegate da dare un forte company che la fanno morire immediatamente addirittura c'è una radiazione così potente che una riazza e resta secco considerando che hiroshima e nagasaki sono già state ricostruite e 70 anni dopo la bomba hanno più di un milione e mezzo di abitanti e nessuna radioattività residua non ci sembra molto credibile che qualsiasi sventurato sia vicini alle rovine di mohenjo d'arro muoia ancora oggi immediatamente dopo migliaia di anni della sopposta esposione adesso però c'è chi si avvicina a queste ravine muoia ma no ma questo è quello che dice davenport che gli abitanti del luogo dicono è da cagare cioè scusate francese francesismo cioè ok resta però mister quali siano esattamente le fonti di tale racconto di davenport che cita gli abitanti e luogo perché non vengono affatto citati nomi e se ci pensiamo un attimo se veramente la zona fosse così gravemente radioattiva non potrebbero esistere abitanti del luogo se non in villaggi lontani decisi sono centinaia di chilometri quindi quando parla di abitanti del luogo quali quale luogo se appena t'avvicini zapp sei fulminato ma chi ci abita poi se veramente qualche pakistano locale ha rilasciato a formazione del genere di fulogisti probabilmente nel villaggio si stanno ancora facendo grosse risate alle spalle di quei turisti sciocchi tanto per dirtene una recentemente mi sono scapitata su youtube su un video di un travel blog blog guardati in nepal e si lamentava che avevano spennato in un minimo ristorantino locale ma cioè questo arriva e gli chiede che cosa c'è in quella nella zuppa e questo è quello in inglese gli dice matton cioè capra e il turista non capisce e allora il il tipo local nepalino dice me l'animale e ancora il turista ancora non capisce e poi il nepalino gli dice got capra e il turista ha capito god ha capito dio e gli dice ah sì nella zuppa c'è dio mangiate dio però va bene va bene dammi un po di zoom cioè è chiaro che con gente di questo genere gli abitanti del luogo veramente si fanno si fanno i teatrini perché dai non è possibile bisogna essere proprio scemi ma andiamo avanti in quasi 100 anni nessuno dei numerosissimi archeologi che hanno condotto scavi e studi sul posto nemmeno tra gli eroici ricercatori che credono un'antica e guerra atomica ha mai riportato danni di alcun genere alla propria salute dopo avervi trascorso il tempo sufficiente a condurre i loro studi per giorni settimane e quindi radioattivo sono radioattivi dove ricordiamo che i primi scavi a morangio d'ora sono iniziati nel 1922 sotto la direzione di era di banner gira archeologica servizio india bla 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 cioè tutto il decennio 1913 c'è stato un grande interesse con un affollamento di parecchi e squadre di archeologi sotto la direzione di john marshall senza che nessuno riportasse alcun tipo di disturbi della radiazione numerose altre spedizioni ha continuato a lavorare lacramente fino a 69 65 quando l'intensità degli scavi di unità ma solo perché l'esposizione delle strutture disseppellite agli agenti atmosferici specialmente le piogge monsoniche stava cominciando a compromettere la loro stabilità non di meno gli archeologi hanno continuato a lavorare in loco con frequenti ispezioni interventi di conservazione e salvataggio esplorazione con sonde realizzazione di mappe per documentazione ancora negli anni 1980 due importanti progetti di esplorazione archeologiche sono stati condotti dalle squadre condotte rispettivamente dal tedesco bla bla italiano bla bla nessun membro di questa squadra ha mai riportato disturbi della radiazione manco gli è caduto un capello è totalmente infondata anche l'idea dei molti scheletri di antichi abitanti che sarebbero stati colti di sorpresa l'attacco nucleare e morti in strada nello stesso istante questa è tutta fuffa il sito archeologico di morangio d'arro è a cielo aperto e numerosi ricercatori alternativi l'hanno visitato ma senza riportarne fotografia attuale accurate e verificabile a differenza di quanto hanno fatto gli archeologi convenzionali in cui reperti ufficiali comprendono 37 scheletri che non mostrano alcun segno di morte improvvisa verano stati accuratamente seppelliti e non abbandonati per strada a vari intervalli di tempo anche di parecchi secoli quindi c'è gente che è stata seppellita la anche in seguito e nessuno ha mostrato alcun livello anormale di radioattività nello stesso pagine web degli alienisti dove si dichiarano praticamente che tutto venne carbonizzato fuso e a massi enormi di mura fondamenta sono rimasti letteralmente vetrificati vengono appostate fotografie dei resti suddetti di costruzioni dove si vede alcuna traccia di carbonizzazione o fusione o vetrificazione nemmeno in un presupposto epicentro quindi sono mattoni normali tutta sta vetrificazione nella stessa pagina in cui dicono che tutto venne carbonizzato e fuso ti mettono le fotografie dei muri di mattoni che non sono non hanno neanche una traccina neanche un baffo di carboncino da disegno ma hanno sbagliato l'uogo forse no comment perché se hanno sbagliato luogo forse non ha sbagliato tutto no ma questa c'è loro se ne vanno con l'idea però no no allora io in questo libro tipo porto delle informazioni verificabili poi che cosa ne vogliamo trarre a livello di opinioni come dicono i nostri amici di facciamo finta che l'amico allora quella a livello di federazione galattica le armi atomiche sono vietate ci sono delle armi ma non si possono essere usate le armi atomiche quindi questi alieni che usano armi atomiche impossibile sono è un'altra tecnologia ma sì ma poi il fatto che vittoria delle bombe atomiche sono esplose che dopo 75 anni secondo alcuni praticamente ci sono forme di alieni che tra virgolette salvaguardia nel pianeta dai danni generati dalla razza allora 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 due punti punto numero uno è vero che ci sono delle razze delle razze che abbiamo le razze o specie o livelli di gruppi di individui umani umanoidi che hanno a cuore la salvaguardia del pianeta perché il pianeta terra è un pianeta particolarmente importante nell'universo e questo è vero perché è chiamato il dharma scelta arma scelta è il campo del dharma perché qui gli esseri umani vivono gli esseri umani e gli esseri umani hanno la possibilità estrema di scegliere se andare su o andare giù è un purgatore no non è un purgatore nel senso che possono evolvere o involvere in cui l'anima individuale di vato ha la la possibilità più diciamo così vasta più ampia possibile nell'universo di scegliere la propria evoluzione e quindi questo è car specialmente queste questa razza appunto che da cui tutti riferisci è specificamente quella dei sidda e in in seconda istanza più ampia sono i deva i deva sono interessati a proteggere non solo la terra ma l'universo in generale i sidda sono interessati particolarmente a proteggere la terra i sidda sono costantemente presenti su questo pianeta hanno la capacità di spostarsi tra dimensioni hanno la capacità totale di manipolare la materia quindi cioè acchiappali è mica facile ok questo punto 1 punto 2 non è riferito semplicemente la questione delle bombe atomiche perché se fossero incaricati semplicemente di ridurre le radiazioni atomiche eccetera eccetera come rishima e nagasaki allora scusa potrebbero anche andare a cernobile e a fukushima fukushima praticamente a fukushimato diciamo la maggior parte dell'oceano pacifico e sono arrivati pure i pesci mostri sulla spiaggia della california cioè le radiazioni ci sono a corso vabbè andiamo avanti comunque il punto è che quello che scrivono davenport e compagni e quello che scrivono i diciamo quelli che hanno preso che hanno fatto il coppia in colla non è attendibile andando a verificare si trovano dei buchi che altro che il buco nero dalla galassi ok andiamo avanti i siti internet realizzabili all'ottimo stato di conservazione delle costruzioni con lunghi tratti di mura di cinta persino torri di mattoni di altezza fino ai 5 metri i mattoni sono ben visibili nelle foto piuttosto ordinati allineati in col bel colore beige chiaro e anzi ci risulta che prima che venisse stabilita qualche forma di protezione archeologica nella zona degli scavi il governo locale si era servita abbondantemente dei mattoni antichi per la costruzione della vicina ferrovia senza che ne sia risultato alcun misterioso decesse lavoratori saccheggiatori a parte i mattoni nel sito archeologico sono state trovate molte figurine terracote perfetto stato di conservazione nessuna vetrificata o consegni di danneggiamento per calore eccessivo come si può vedere dalle vaste collezioni di museo nelle costruzioni sono state trovate tracce di telai in porte in legno dipinto e la grande piscina 12 per 7 metri aveva ancora lo strato di bitume usato per impermeabilizzare il fondo quindi in caso di guerra nucleare queste cose non sarebbero assolutamente alcuni ricercatori alternativi affermano di aver personalmente fatto esaminare dei campioni in laboratorio presso l'istituto di mineralogia dell'università di roma e secondo l'analisi la temperatura di esposizione minerali dei materiali era stata altissima più di 1500 gradi che può essere spiegato soltanto con una fusione termonucleare lasciamo perdere l'assenza di documenti che provano che tali esami laboratori sono stati effettivamente eseguiti ma basta andare a verificare le normali temperature dei forni artigianali rispetto a quelle dell'esplosione nucleare per capire l'autorrevolezza la competenza di questi ricercatori i forni per mattoni raggiungono normalmente 1400 gradi e quelli per le delicate porcellane di sebro sono tarati sui 1240 gradi mentre un'esplosione nucleare va da un minimo di 10 milioni di gradi a 1 e 2 miliardi di gradi se gli esami laboratori hanno dato questi esiti provano soltanto che a mohenjo darro i vasai erano forni più efficienti e producevano terracotta leggermente più resistenti quelle tipiche delle nostre industrie nel libro nel suo libro ancient eton bombs fact froden mr prehistoric nuclear warfare antiche bombe atomiche fatti falsità il mito della guerra nucleare preistorica jason colavito 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 cita l'ottima autorevole traduzione mahabara di kishari mohan ganguli per smentire le versioni distorte presentate da powell's berger davenport von daniken davin hatcher cildress e altri reattori della stessa corrente colavito porta l'esempio del passaggio citato da cildress che parla della distruzione dei brisci e degli andaca in cui un certo gurka non meglio identificato volando su un vimana lancia una bomba carica di tutto il potere dell'universo e che esplode con lo splendore di diecimila soli della forma di un cannes in una incandescente colonna di fumo e fiamma che aveva ridotto in cenere l'intera razza dei brisci e degli andaca carbonizzandone i corpi al punto da renderli irriconoscibili facendo cadere unghie capelli a chi non era carbonizzato presumibilmente per suggerire questo fuoco i soldati si sarebbero lanciati nell'acqua per lavare se stesse loro equipaggiamento gli effetti dell'arma avrebbero anche calcinato gli uccelli probabilmente in volo spezzato le pentole nelle cucine rese infetto tutto il cibo nel giro di poche ore colavito fa giustamente notare che nel maha barata questo brano non esiste affatto e che probabilmente è stato inventato insomma pianta l'episodio della distruzione degli andaca e rishni si trova effettivamente nel maha barata non c'è la parla dove moshala significa letteralmente mazza ma non ha niente a che vedere con vimana o astronave di alcun genere con armi atomiche o bombe di alcuni di altro genere fumo fiamme o radiazioni e meno con una battaglia ma descrive un episodio avvenuto a dvarka centinaia di chilometri di distanza che succede e molti anni dopo la fine della guerra in quella storia riportata anche da barata purona vediamo che i discendenti di krishna che appunto costituivano la suddetta dinastia o razza dei brishni andaca vengono colpiti da maledizione in cui segnale cioè presagio segno in fausto è stata l'apparizione di una mazza moshala di comune ferro che non aveva proprio niente di atomico di esplosivo che venne polverizzata grattugiandola pazientemente per ordine del re un grassene quindi andiamo avanti qua c'è tutta la storia della distruzione sia degli andaca e ricci dove nema barata nel barata purana e in altri testi un altro passaggio fasullo riportato come testimonianza di guerra tra dei con armi atomiche aeronami da parecchi bligh libri blog riporta dopo aver sconfitto il suo nemico krishna armato e illeso accompagnato dai re uscì da giri raggia sul carro divino l'unico episodio compatibile quello dell'uccisione gersanda narrato a mara barta bla bla capitoli da gara purano bla bla capitoli in quell'occasione krishna si reca insieme agli amici cugini e giri raggia la capitale del regno di magra per sconfiggere il malvagio gersanda il quale aveva imprigionato eccetera eccetera quindi il carro divino non era un carro volante nell'episodio originario non occupavano né a stramave né armi divine di alcun genere e perché seppure il carro è chiamato divino e probabilmente era davvero un bel carro non significa affatto che andasse volando infatti i tre amici arrivano modestamente in incognito travestiti da rimaribrava la vicina gersanda per chiedere una nozione se fossero arrivati in divina pompa magna volando in cielo e carichi di armi più o meno straordinarie non sarebbero certamente passati inosservati come invece vediamo dal testo la letteratura vedica fornisce effettivamente un elenco di armi divine basate sulla manipolazione sottile della materia a livello atomico e subatomico di cui abbiamo già parlato i chakra dischi di dharma cala vishno il triscia trisciula tridente di sciva ma anche di due reparchi altri brahma shira test di brahma valgia di india eccetera 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 tutta la serie altre armi estremamente potenti erano le mazze quello che invece non si trova nella lettura originale è la camarucci che vari ufologi citano copiandosi a vicenda come la freccia intelligente che va dove si vuole in realtà il termine camarucci o camarucci colacca significa letteralmente gusto per l'attrazione amorosa che c'entra niente con le armi e viene menzionata nei testi sacri sanscriti come la freccia di smart chiamato kamadeva mannato una specie di cupido indiano per cui la persona colpita la freccia viene sopraffata al desiderio amoroso non è mica una freccia vera non è mai menzionata nel contesto di battaglia in particolare la camarucci viene invece citata nella rama charita manasa di tu si das al verso 204 citazione non sono attratto ricchezza meriti religiosi desideri amorosi non cerco nemmeno la calma perfetta quindi qui camarucci significa desideri amorosi portarla come dimostrazione dell'esistenza di un'arma un missile teleguidato eccetera completamente no il bramastra è talvolta descritto come un'arma nucleare ma in realtà profondamente diverso dalle bombe della scienza occidentale moderna innanzitutto risulta molto più controllabile e può essere ritirato o concentrato in un'area molto ristretta azione sul nucleo le particelle subottomiche è molto sottile e precisa con effetti temporanei e molto circoscritti perché non produce radiazioni di tipo nucleare o inquinamento delle falde acquifere dei raccolti o delle piante zero addirittura l'esempio di bramastra lanciato di esso da sua thama contro paricci alla fine della guerra di kukshetra come descritto la maha barata safti kaparva della baghata purana bla bla era diretto a colpire il feto ancora in fase di gestazione senza provocare danno alla madre e infatti la madre utara si offre di sacrificare la propria vita in cambio di quella del bambino non ancora nato chiedendo che l'arma colpisca lei invece del feto una bomba omisse nucleare al tipo prodotto tecnologia occidentale del ventesimo e ventunesimo secolo non farebbe alcuna distinzione tra un feto e la madre e anche distruggerebbe tutto e tutti nel raggio di chilometri quindi la preghiera di uta non avrebbe alcun senso si capisce si segue perfetto la proprietà e il potere delle astra o armi divine possono sembrare leggendarie a chi non conosce le spiegazioni precise profonde sulla realtà atomica e subatomica della materia offerte da noi che rendono possibili quei poteri paranormali che la scienza occidentale moderna non è ancora capace di spiegare e che risiedono nella considerevole percentuale del cervello che la stragrande maggioranza popolazione odierna non utilizza mai dal 70 al 95 per cento secondo alcune stime a seconda individui a livello chiamato cittacasha cioè lo spazio vibrazionale sul quale la consapevolezza umana può operare il suono mantra può essere modulato e applicato con una logica simile a quella degli strumenti laser concentrano i semplici raggi di luce in un'arma veramente tenibile già il suono ordinario è più potente della luce ordinaria tanto che certi toni sono capaci di spezzare il vetro e muovere oggetti anche a notevole distanze immaginiamo cosa può produrre una modulazione scientifica quando viene applicata con la necessaria conoscenza e pratica alla modificazione degli elementi più semplici e primari quindi la scienza vedica specialmente le armi e del bramastra e dei rimana che era basata sul suono e qui vengono spiegate in un lampo tutte le altre varie misteriose tecnologie quello che dice anche guarda domani bra ma c'è no vabbè se lo metto diversamente ma lo dice lo dico e lo dice anche quel tipo che che negli stati uniti ha costruito tutta una storia enorme con pietroni monoliti e esagerati senza usare nessuna nessuna attrezzatura o come i monaci buddhisti la maisi in tibet che che fanno levitare i pietroni se semplicemente col suono come hanno costruito le piramidi come hanno costruito le piramidi come hanno costruito ballback ballback in libano l'avrei sentito ovviamente parlare no ballback in libano cioè praticamente è di migliaia di anni precedente all'impero romano non si sa di quante migliaia ma il tempio di bal esisteva già in precedenza e più si va in verso il basso della costruzione e più i pietroni sono sono inconcepibili oggi non si potrebbero spostare neanche col con tutta la tecnologia ne parleremo ne parlo poi più avanti non si potrebbero spostare possibile e tenendo conto che ballback non è mica in pianura è quindi anche le piramidi di nuovo le piramidi non è mica diciamo così mistero il fatto che le piramidi probabilmente non sono state costruite nel periodo in cui afferma la storiografia ufficiale prima di tutto perché non si può fare l'esame a carbonio 14 alla pietra il carbonio 14 ti può dare dei risultati però ci sono delle tecniche nuove 2 lo so ma infatti non te le insegnano a scuola perché se vai a vedere con le tecniche nuove la famosa piramide di viscioco in bosnia sarebbe perlomeno 33 mila anni 30 35 mila anni è chiaro che non te lo chiamano pseudoscienza tu trovami una valutazione alle tecniche nuove della delle piramidi di visa e dopo ne parliamo ma senza cioè la cosiddetta diciamo così archeologia alternativa porta dei diciamo così delle dei ragionamenti logici delle prove molto evidenti per esempio quella che io accetto assolutamente come 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 definitiva è il fatto che nel bacino dove sta la sfinge i lati del bacino sono pietra scavata dall'acqua cioè qualunque geologo ti dice queste questa è un'erosione da causata da dallo scorrimento di acqua in in grosse quantità e per 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 molto tempo ora le inondazioni lo scorrimento di acqua le cascate nel deserto del sahara non corrispondono alle datazioni della piramide di che è e micerino i di tre i tre i tre magi i tre re magi cioè non sono mica non sono mica credibili il fatto che le piramidi sarebbero state costruite come tombe anche lì non è credibile affatto le tre piramidi originarie sono molto più antiche delle altre piramidi diciamo che si trovano in giro che poi sono state usate come tombe nelle tre piramidi originari di visa non ci sono tombe la chiamano la camera del re la camera della regina ma dove stare alla regina no vabbè quello il mistero delle piramide tra virgolette è stato corrado malanga l'ha svelato come una macchina del suono che serviva per generare e trasportare la parte animica degli di quelli che si offrivano al re e renderlo immortale nel corpo materiale allora il corrado malanga adesso io personalmente penso che sia una brava persona ma non lo non lo riconosco come un'autorità che ha svelato tutto certo molto di quello che lui afferma ha delle fondamenti a delle basi solide in quello che tutti possono osservare allora in quella diciamo in quella misura va benissimo bisogna però ampliare la l'esame della situazione un po più in là e questo deve essere collegato con le famose religioni misteriche che non mi sembra che il corrado malanga ne parli di religioni mito no 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 le religioni misteri che i misteri di iside i misteri orfici misteri di quali misteri di la misteri di salmo traccia misteri le usini non ne parla non aveva lì che un discorso bravo allora io invece allargo della visione faccio un quadro più ampio che spiega anche perché queste conoscenze non è che sono state completamente più dimenticato sparite sono collegate sono collegate sono rimaste le tracce sono rimaste e sono rimaste nella come si la chiamano oggi l'archeologia mitica dei miti se noi studiamo le religioni misteriche se studiamo per esempio quello che è rimasto dalle religioni misteriche attraverso l'ognosticismo attraverso l'alchimia attraverso i tarocchi tutta questa roba che risulta molto affascinante per moltissima gente ci accorgiamo che questo fascino in realtà è radicato in una conoscenza molto più profonda molto più vasta che effettivamente la nostra memoria collettiva riconosce però è chiaro che se noi non ci facciamo una diciamo così una ricerca verificabile verificata sui testi antichi sulle testimonianze antiche su 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 sui diciamo così sui reperti antichi noi ci limitiamo a speculazioni e lucubrazioni non è che stiamo svelando un mistero stiamo dando una nostra teoria che può contenere una bella percentuale di i fatti reali però non è che stiamo svelando un mistero stiamo scrivendo una storia più o meno di fantascienza se andiamo a vedere sono di fantascienza hanno previsto lo sviluppo dei computer non è che le storie di fantascienza sono completamente fasulle non hanno alcun valore noi ogni essere umano può attingere alla mente collettiva nella caccia come giustamente tu hai osservato attingendo alla caccia o per canalizzazione o per ispirazione o per trasmissione di sapere di cui in qualsiasi altro modo noi possiamo collezionare dei pezzetti di conoscenza ora però da questi pezzetti di conoscenza è come un rompica con un puzzle noi possiamo girarli come vogliamo è chiaro che per avere una guida più solida all'interpretazione alla ricostruzione del mosaico originario e noi dobbiamo andare da alla tradizione non è che possiamo semplicemente inventarci le nostre teorie basate sulla scienza moderna e questo lavoro io sto facendo questo è lo scopo del mio libro qui così è il lavoro in generale che sto facendo per aiutare la gente a ad avvicinare le fonti originarie e autentiche della conoscenza vedica che è l'ultima delle grandi civiltà del mondo antico che ancora porta parecchia roba quindi noi possiamo ovviamente dobbiamo attingere alla mente collettiva attraverso la caccia attraverso l'ispirazione la meditazione la canalizzazione eccetera però dobbiamo verificare dobbiamo controllare per questo uno dei concetti principali nel sistema vedico diceva bene canalizzazione bene chiunque può scrivere testi vedici anche oggi però devono essere verificati a